A tutti voi un cordiale saluto, calcio, motori e tennis in primo piano nella pagina sportiva del TG9. Apriamo con il calcio, turno infrasettimanale in Serie C con la Lucchese di scena a Gorgonzola contro l'Albino Leffe. A Gorgonzola la Lucchese cerca un nuovo slancio, quello che non ha mai trovato in questa tormentata stagione. Scelte obbligate per Lopez che in realtà qualcosa cambia, spazio a Della Bernardina, Maestrelli e Benassi. Per il resto sono i soliti noti. L'Albino Leffe, padrone di casa, anche se questo non è il suo stadio, veleggia tranquillo all'ottavo posto. È privo però del bomber Manconi, Lucchese in giallo flow. Abbrivio di gara con le azioni che ristagnano all'altezza delle due e tre quarti. Il gioco in prevalenza si svolge al centrocampo. Non ci sono grandi occasioni e le emozioni latitano. Spingono maggiormente i seriani che pur senza strafare costruiscono un paio di nitide occasioni. La più ghiotta al quarantesimo. Cori manca il tappin da ottima posizione e si divora al vantaggio per i blu celesti lombardi. Si va a riposo sullo 0-0 e con la nuova mesta sensazione di una Lucchese che palese i soliti limiti vistosi nella costruzione del gioco. In avvio di ripresa la gara si stiracca in avanti sul solito canovaccio tattico. Un angolo velenoso di Panati mette in ambascia la difesa locale. Ora la Lucchese sembra finalmente scuotersi ed è ancora Panati al quarto d'ora a tentare la via del gol ma il suo tiro dal limite è impreciso. Del resto la squadra di Lopez sa che deve rischiare anche perché quei pareggi non solo non si rimonta ma si allarga pericolosamente la forbice. Ora la partita è più aperta anche dal punto di vista tattico e ci sono più spazi ma non succede nulla. Tanto ricca e esagerata di gol fu la gara di andata finita 4-5 quanto avaro e triste a questo pomeriggio al città di Gorgonzola. Tre minuti di recupero ma non succede altro. La partita finisce 0-0 specchio fedele del poco o nulla che si è visto in questo mercoledì Lombardo. Non ha problemi l'Albino Lefe che vivacchia in zona playoff mentre l'unico motivo di soddisfazione per la Lucchese è che almeno per una notte non è ultima in classifica aspettando Livorno-Alessandria ma è consolazione assai magra. Passiamo alla serie D dove si giocava invece un recupero al Morgagni di Forlì, la Real Forte Querceta pareggiato 1-1. È successo tutto nella ripresa, Forlì in vantaggio su sfortunata autorete di Pegollo, il pareggio in pieno recupero al 92esimo con Guidi, Nicola Sguidi che ha trasformato un calcio di rigore concesso per atterramento di Ciccio Di Paolo. Ancora calcio, la Serie C femminile a Lisa Marchetti, il titolo di miglior calciatrice della decima giornata di campionato. Il portiere del Filecchio ha messo in mostra tutto il suo repertorio domenica scorsa nel big match contro l'Arezzo, vinto peraltro dal Filecchio Women per 2-0. Passiamo ai motori, Greg Brink e Paul Nagel con la Hyundai R5 a rally del ciocco. Possiamo dire tutto il meglio del realismo italiano ma con una spruzzata decisa di mondiale. È il 44esimo rally del ciocco della Valle del Serchio 2021. Greg Brink, che qui vediamo con Paul Nagel, ha già corso rally del ciocco due anni fa concludendo quarto dopo essere stato tra i grandi protagonisti. Da Greg Brink ha un pilota molto più locale, parliamo di Cristiano Bianucci e dell'MM Motorsport. Risultato davvero esaltante quello ottenuto da MM Motorsport sulle strade del rally Terra Valle del Tevere, secondo appuntamento del campionato Race Day andato in scena in provincia di Arezzo. Il team lucchese, rappresentato da Cristiano Bianucci alla gara d'esordio su fondo sterrato su Skoda Fabia R5 equipaggiata con pneumatici Pirelli, ha sfiorato la Top Ten archiviando l'appuntamento in undicesima posizione assoluta a soli 7 decimi dalla vettura di Cobbe Turco. Per la cronaca la corsa è stata vinta da Marchioro Marchetti su Skoda Fabia R5. Sono soddisfatto molto della vettura, le regolazioni e il setup della vettura è perfetto, devo soltanto adattarmi io a capire qual è il giusto compromesso per andare forte. Sicuramente è la dimostrazione che cerchiamo sempre di dare il nostro massimo, anche questo è un terreno nuovo per noi e non sappiamo veramente come fare. Ho accanto un grande navigatore che se non ci fosse lui forse non saremmo nemmeno qui adesso. Un risultato, quello conquistato dal portacolori della scuderia Rally Revolution, condiviso con l'esperto Sauro Farnocchia sui chilometri delle prove speciali Cerbaiolo e la battaglia di Anghiari, ripetute per tre volte. Una performance crescente quella del pilota lucchese, concretizzata grazie al quinto miglior tempo fatto registrare negli ultimi tre chilometri e mezzo di gara. Il Rally Terra-Valle del Tevere ha garantito ad MM Motorsport la prosecuzione di un trend altamente positivo di cui si è resa protagonista la struttura nella fase di avvio stagionale, a margine degli ottimi riscontri che hanno contraddistinto l'impegno nel primo appuntamento dell'anno, ovvero il Rally del Carnevale. Il tennis, bene Jessica Pieri che accede agli ottavi di finale del torneo di Manacor in Spagna. Siamo sui campi del Rafa Nadal Tennis Academy. Jessica battuto in 3-7, 2-6, 7-5, 6-3. La spagnola Alba Cario Marin e negli ottavi di finale se la vedrà con la croata Iva Primorac. Il tennis tavolo Forte dei Marmi riesce nella Mission Impossible. La squadra versiliese vince infatti 5-3 la partita decisiva sul campo del forte e quotato tennis tavolo Genova e conquista la promozione in B2. Vediamo la squadra Forte Marmina, composta dal veterano Alessandro Romano, dalle giovani promesse Lorenzo Tavoletti e Lorenzo Catani, accompagnati dall'allenatore Maurizio Ardinghi. Chiudiamo con il biathlon. La Focolaccia Lucca ha organizzato i campionati italiani ragazzi allievi area compressa a Bionazza in Valle d'Aosta. La Focolaccia ha partecipato non solo come società organizzatrice ma anche come unica rappresentante del comitato appennino toscano non appartenente all'arco alpine. Gioveni atleti, vogliamo ricordarli, erano Federico Di Sacco, Frediano Tellini e Matilde Tellini, accompagnati dagli allenatori Licia Cerri, Nora da San Martino e Marco Guidotti. E con il biathlon si chiude anche la pagina sportiva del TG9. Una breve pausa e poi il telegiornale prosegue con la terza ed ultima parte.